Ciao, sono Samuela e sono l'operatrice di accoglienza dello sportello del Centro Pride. Io mi occupo di accogliere le persone che accedono allo sportello tramite via telefonica o anche per accesso autonomo e con me poi lavorano anche altre figure, professioniste di riferimento che offrono altri servizi all'interno del Centro. Quindi c'è la psicoterapeuta che offre un percorso di supporto psicologico e c'è l'operatrice di orientamento lavorativo con la quale le persone che accedono al Centro possono fare dei percorsi di orientamento finalizzati anche alla ricerca del lavoro e c'è la possibilità anche di avere una consulenza legale nell'eventualità che ci sia bisogno di affrontare una questione giudiziaria anche. Io in questo tempo di apertura del Pride, del Centro, sono state diverse le persone che sono entrate e diverse anche le loro richieste. Quindi ho potuto anche approcciarmi condividere dei percorsi di transizione con alcune persone e sostenerle anche nella presa di consapevolezza della necessità e dell'importanza di comprendere la propria identità di genere. In altre situazioni mi sono trovata a supportare delle persone che si sono trovate in una condizione di forte discriminazione a seguito del loro coming out. Nel corso dei mesi ho fatto sia colloqui online che colloqui in presenza. Se avete bisogno di informazioni, di un orientamento o anche di un supporto potete contattarci. Noi siamo fisicamente, il Centro fisicamente è a Martinsicuro in via Marconi38 e per tutti gli altri riferimenti li trovate sui nostri canali social Instagram e Facebook come Centro Pride. Ci trovate! Grazie per la visione!